Sergio Vatta che ha vestito la maglia del Campobasso nella stagione 65-66 e che è rimasto sempre legato all'ambiente del Campobasso, all'ambiente rosso-blu, Sergio Vatta nacque a Zara in Dalmazia, nell'allora Regno d'Italia, il 5 ottobre del 1937. Esule Giuliano Dalmata crebbe calcisticamente nella Triestina, giocò poi in Serie C con l'Aquila, passò poi al Campobasso e chiuse la carriera in Piemonte. Fu allenatore di Ivrea, Casale e Provercelli. Alla fine degli anni 70 divenne allenatore delle Giovanili del Torino, dove vinse praticamente tutto. Nel 1989 sedette anche in prima squadra, poi allenò le Nazionali Giovanili Azzurre, la Primavera della Lazio, con cui vinse uno scudetto. Fu poi alle Giovanili del PAOC Salonicco e chiuse la carriera come direttore genelane dell'Alessandria Calcio. Dicevamo della sua presenza con la maglia rosso-blu nella stagione 1965-66. Erano tempi difficili, tempi in cui il Campobasso giocava naturalmente in Serie D e lottava tutti gli anni per guadagnare la salvezza. Ebbene, il campionato al termine di una stagione tribolata per i colori rosso-blu fu vinto dal Barletta con 51 punti. La Civitanovese si piazzò seconda con 47 punti. Il Campobasso chiuse la stagione a quota 30 insieme al Bisceglie e guadagnò una salvezza tranquilla, perché più giù in classifica finirono San Crispino e Galatina con 29 punti, Teramo 27 e San Giorgese 25. Da ricordare, davvero una stagione tribolata sotto il profilo economico, tanto che molto spesso i giocatori rifiutavano di andare in trasferta proprio perché avanzavano degli stipendi. Il fatto che ricordano un po' tutti che è ricordato dalle cronache dell'epoca è che appunto fu vatta che in qualche circostanza si autotassò in sostanza per consentire alla squadra di non disertare gli incontri in trasferta. I dirigenti dell'epoca, il presidente era il professor Adolfo Colagiovanni, l'allenatore era Mario Perazzolo, ebbene i dirigenti dell'epoca in sostanza avevano chiesto a Vatta in più di un'occasione di fornire praticamente, di anticipare i soldi per le trasferte, soldi poi naturalmente mai restituiti alla mezzala perché Vatta era la mezzala di quella squadra. Abbiamo appunto una foto di quella squadra dell'epoca con Lanza, Rizzo, Ballarin, Tarantelli, Trulla, Perazzolo che era come dicevamo l'allenatore, Padovan, Lungo, Tevecchi, Gambato, poi Accosciati, Zennaro, Radetic, De Matteis, Romano, Cicogna, Susan, Vatta per l'appunto e Persic. Quello fu l'anno in cui insieme al tecnico Perazzolo arrivarono ben sette giocatori dalla Pro Venezia. Ebbene Vatta è stato poi autore anche di un libro e ha avuto davvero parole speciali per Campobasso che lui ha tenuto sempre nel cuore. Leggiamo testualmente proprio dal libro di Sergio Vatta A Campobasso, dice Vatta, dove la gente è di una gentilezza infinita, la stagione si trascinò tra mille difficoltà economiche ma alla fine fortunatamente emerse la positività del fattore umano che mi consolò di tutto. Il merito fu del mio grande amico e compagno di squadra Bruno Persic che risiede ancora nella nostra città. Un fiumano, dice ancora Vatta, che aveva sposato una molisana e si era sistemato proprio a Campobasso. Forse furono proprio gli spaghetti alla chitarra di sua moglie Michelina a farmi restare fino in fondo. O la solidarietà di un altro compagno di squadra, il rampollo di una giada famiglia, Gino Scasserra, chiamava il calcio come la propria vita e trasmetteva la passione a tutti noi presi in quel limbo professionale. Il tecnico, conclude Vatta, era un galantuomo dal nome importante, Mario Perazzolo, per tutti il signor Mario. Sì, pensandoci bene, da Campobasso ho portato a casa più valori umani che soldi. Questi li ho consumati in fretta, quelli li ho ancora dentro di me e ogni tanto riemergono sempre più preziosi. Questo scriveva Vatta nel suo libro La Magia della Filadelfia, un personaggio di spessore nazionale. Tanto è vero che la sua scomparsa è stata ricordata da tutti i giornali, da tutti i quotidiani sportivi nazionali e non solo, e naturalmente da tutte le fonti di informazione perché è stato un signore che ha onorato il mondo del calcio. Quindi abbiamo voluto dedicare a Sergio questo stralcio, questo servizio nel nostro TG Sport proprio per ricordare l'amore con cui Sergio Vatta ricordava Campobasso e i suoi tifosi appunto nelle sue memorie.